Sostenibilità dal punto di vista economico e politico del fiscal compact che imporrà all'Italia il rientro forzoso dal debito, ipotesi dell'uscita dall'euro che non può essere considerato un tabù e che per paesi come l'Italia, con questa Europa attrazione tedesca in mano a banchieri e burocrati, potrebbe rappresentare la soluzione più razionale, anche perché non sarebbe affatto l'armageddon finale. Questi ed altri temi del convegno Italexit, organizzato dal quotidiano online Abruzzo Web, che ha visto protagonisti all'Aquila Marco Zanni, europarlamentare Lorenzo Esposito, funzionario della Banca d'Italia, Stefano Silos Dabbini, promotore della proposta dei certificati di credito fiscale, Giuseppe Palma, giurista e scrittore, e l'economista Massimo Pivetti. Possibilissimo uscire dall'euro, noi abbiamo il nostro debito pubblico che per il 96% circa è regolato ancora da giurisdizione nazionale, benché sia espresso in euro e ancora regolato da giurisdizione nazionale. È stato calcolato che la svalutazione della lira, che comunque sarebbe salvifica, perché ci aiuterebbe ad aumentare le esportazioni, si aggirerebbe tra un minimo del 7% e un massimo del 15%, quindi una svalutazione della nuova lira assolutamente salvifica per le nostre esportazioni. Per quanto riguarda poi l'inflazione, l'inflazione la si può benissimo controllare attraverso la leva fiscale, per cui non vengano a spaventare la gente. Ritornando a moneta sovrana, l'Italia riuscirebbe di nuovo ad essere competitiva e soprattutto a creare occupazione, visto che abbiamo raggiunto un tasso di disoccupazione vicino al 12%, che poi realmente significa 25%, visto per come è calcolato. Nel corso del convegno è stata poi lanciata una proposta concreta per uscire dalla morsa del rigorismo finanziario imposto da Bruxelles, quella dei certificati di credito fiscale da usare al posto dell'euro come una sorta di moneta complementare, attraverso una grande concertazione tra sistema produttivo, istituzioni e cittadini. Si tratta di emettere titoli fiscali, sconti fiscali a scadenza, quindi titoli pubblici denominati in euro, che possono funzionare immediatamente come un mezzo di pagamento. Quindi in questo modo noi evitiamo di indebitarci sui mercati finanziari, non dobbiamo vendere titoli di debito per raccogliere euro con i quali finanziare l'espansione della spesa, ma noi mettiamo questi titoli fiscali che hanno anche la possibilità di funzionare come mezzo di pagamento.